Now, say my name Vabbè, si capisce cos'è, senza che metta a fuoco Mettite così Mettite così La palla La palla Battiscopa Vai, mettite Così, vai Ah, sono il re Sottomissione Vai, vai, vai Sette e mezzo Coglione, guarda Cazzotto Sperai, vai Ah Non so più come fallo Oh, guarda Cazzo fuori Eh, no, dico De solito Medico Medico Ah, ma cos'è Oh, è medico, no? Quando si mette così Guarda, mettere seduto Così Riflesso Porca le macchie Come cavolo, cinocchio Ma sei stupido Mi fai, fa così Oddio, mi caschio Oh, perché sei Oh, è medico Così Bellato Vai Ah Ah Oh Omicidio Potentario Oh, tanto Dio non è difficile Cioè, ti avevo fatto in tutti i modi Non è quello giusto Aspetta, fai finta che questa Fuoco Ma che sei subido Non ci posso credere Io sono Una Vai Che cazzo vuoi da me? Cos'è lui? Il re E tu sei un cavo Quanti amici Il chiodo e mattello Eh, solo il Chiodo Lo sapevo Lo sapevo Hai fatto il chiodo Hai fatto Eh, hai fatto un gesto di guarda Di mattello Eh, vaffa culo Ma che cazzo Mamma mia Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ah, questo è bello Che questo è bello Uuuuuh Ufff Ufff Razzle shuttle Astronauta Noo Ufff 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 Aereo Ufff 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 A drago Si Oh E' un suo nego che ha aiutato molto Era lui E' un suo Ufff Vai Pittore No Mangiare Chef Ehm Te Te Trasfer La fetta del curo Eh, bravo Quindi Ehm Schifo Ehm La fetta del curo Ehm Amori Non so dire La fetta del curo Non è la fetta del curo Ehm Ah, ti sei bruciato il curo Attimo mio no Non c'è sapere Ehm 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 La fetta del curo Unici con la fetta La fetta del curo Le canterine Ehm Ehm Le fetta del curo Le fetta del curo Ehm 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 Il cane Bravo Ehm Ehm Ci guarda tanto Ehm 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 Un Eh Ehm 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 A banana Ehm Ah Ok attraverso farlo asermi non sa cos'è che fa no no così così formighe ma possono essere formighe non so, è il creeper che fa tipo in un altro modo alle ali ahhh la farfalla che cazzo vuoi un tosso a farlo devi farlo oppure potrebbe anche essere quello freddo quindi ma davvero non ci stai arrivando azzì cos'è e poi allora io non so come fai non vola aria no non vola ha detto lui che vola non vola c'è le ali ma non vola c'è le ali ma non vola con il primo animale c'è le ali ma non vola ce ne stanno due descommetti che dicevo lo sbagliato oh vincuente mamma mia quanto cazzo è difficile Cotteo Anzi il video Questo penso che sarà un video diviso in due parti Perché è lunghissimo Quindi non lo vedrete tutto quanto insieme Quindi questa qua è la seconda parte E niente noi ringraziamo Klaus Se vi è piaciuto arriviamo a 3000 like E la prossima volta sarà sul mio canale Quindi io Bella Grazie a tutti